ragazzi se voi sapete dove sto è un miracolo quando mi è caduto l'albero logicamente mi sono ritrovato su un sentiero e ho perso la strada ora puntiamo di svaricare il tutto e guardate dove sono capitato un'acqua puritissima che non so nemmeno io dove sono ma intanto l'acqua c'è qualcosa vediamo un po va ne avevo veramente bisogno allora dovreste riconoscere questo posto questi sassi questo fiume ditemelo subito perché ora riparto e vi mando la mia posizione eh longitudine x aaaah f aaaah f aaaah f aaaah f aaaah f aaaah f aaaah